Un saluto dal Tg della Mobilità. A partire dal lunedì 11 gennaio, lavori di riqualificazione al Ponte della Magliana. Gli interventi prevedono inizialmente, sino al 26 gennaio, l'installazione di un nuovo spartitraffico centrale. Durante i primi tre giorni sarà prontato il cantiere di notte, con chiusure complete della carreggiata della Roma-Fiumicino, dalle 21 alle 6 del giorno seguente. Le successive lavorazioni saranno realizzate di giorno su una singola corsia per senso di marcia, mentre l'altra sarà disponibile per il transito delle automobili e dei mezzi pesanti. I lavori sulla sede stradale nella carreggiata in direzione dell'aeroporto avranno una durata di circa 35 giorni, durante i quali sarà chiuso al traffico l'intero tratto del ponte e il viadotto della Magliana per chi proviene da Viale Sacco-Newton. Le linee del trasporto pubblico saranno deviate con percorsi alternativi. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione.